Oggi siamo con Marcello Kelly, responsabile per l'Italia dei Lixor etf. A settembre Lixor ha quotato 5 etf innovativi. Su cosa investono e quali elementi di unicità li contraddistinguono? Il primo etf su cui mi piace soffermarmi è Robotics, intelligenza artificiale. Rispetto a quelli magari preesistenti su Robotics vuole intercettare un universo maggiore di strumenti, cioè di società. C'è l'uscita attraverso Martin Ford che è un futurologo, comunque un guru su questa tematica negli US, particolarmente conosciuto anche comunque in Italia e in Europa. Siamo riusciti a realizzare un indice molto più completo a livello di nomi, di società, sono 150 società, se non vuol dire più o meno il 50% in più rispetto ai competitor e soprattutto se cercate di andare al di là dei soliti nomi, quindi intercettando settori anche innovativi come per esempio il consumer, energy, financial e intercettando società che magari uno non si aspetterebbe di vedere nell'intelligenza artificiale come Amazon, Alibaba, Netflix, TripAdvisor. Quello che non si riesce a percepire a volte è che al di là di Google, Microsoft e Intel che sicuramente monopolizzano il settore, ci sono molte altre società che facendo il loro business as usual tradizionale utilizzano l'intelligenza artificiale per dare un'esperienza migliore ai propri consumatori, ai propri clienti e questo indice va proprio a cogliere questi elementi, cioè a quali società anche di settori tradizionali l'intelligenza artificiale può dare un vantaggio competitivo rispetto ai propri peer. Da questo punto di vista poi cerchiamo di intercettare anche società medio-piccole, le PMI pesano il 60% e si cerca di intercettare anche quelle società che magari sono rimaste indietro nel sviluppo dell'intelligenza artificiale ma che riducono il gap rispetto ai competitor andando a realizzare acquisizioni di società che invece l'hanno sviluppato. Quindi in questo sicuramente ci differenziamo molto rispetto ai competitor. Riguardo invece alla tematica ISG, sono stati lanciati i 4 ETF ISG sui 4 aree geografiche principali, la parte innovativa di questi strumenti è il fatto di essere trend leaders dal punto di vista MSCI, cioè dell'index provider. Questo vuol dire che si tiene in considerazione sia il rating ISG che deve essere estremamente elevato, sia si va a premiare con un peso maggiore le società che hanno un rating ISG in miglioramento. Questo vuol dire che si premia chi ha un comportamento virtuoso rispetto a chi invece ha un comportamento che lo porta ad avere magari lo stesso rating ma in caduta perché diciamo ha allentato i propri obiettivi ISG.